Questo voglio che diventi di nuovo uno spazio non soltanto espositivo ma anche di creatività e di sviluppo della città che in questo momento sta perdendo molti punti di aggregazione e ci dispiace molto. Noi li dobbiamo sostituire. La piazza come luogo di incontro, amicizia ma anche di creatività è quello che l'intagliatore Franco Casoni ha voluto ricreare nel suo spazio espositivo di piazza San Giovanni a Chiavari. Qui da diverso tempo trovano ospitalità artisti locali e non solo che hanno la possibilità di far conoscere il loro lavoro. Ultimo in ordine di tempo è stato il giovane architetto e disegnatore Eugenio Ferezine, toscano di origine ma che ha scelto il Tiguglio come nuova residenza per vivere insieme alla sua famiglia. I suoi ritratti nella mostra intitolata Mori oltre ai tratti vogliono raccontare le storie che stanno dietro ai volti disegnati. La mostra interessante in questo momento di grandi drammi su quello che succede nel Mediterraneo l'ha voluto intitolare Mori perché una parte è qui si trova da me, una parte è su all'orsica nel museo del Damasco e durerà fino a tutto gennaio. Quindi è un motivo per vedere questa persona che ha ritenuto di portare questo problema al di là del discorso partitico, politico che è una cosa inutile, un dramma epocale. Però lui ha voluto ritrarre questi visi che poi in sostanza sono visi anche che testimoniano una civiltà che ci è molto vicino. L'espressione di un volto spesso è più sincera delle parole che si dicono e questa sincerità poi mette la luce delle interpretazioni su quello che in definitiva è la storia di una persona. Non c'è solo l'aspetto di trasmissione di quelle che sono le sensazioni più intime, più personali ma anche più vere riguardo al proprio passato, ma c'è anche l'aspetto dell'interlocutore che interpreta un attimino questo sguardo e può farsi una sua idea anche su quello che può essere la storia del soggetto rappresentato. Questa è la cosa che mi piace, è una sorta di indagine sostanzialmente, rappresentare un volto e lo sguardo è indagare un pochino l'anima di questa persona.